Musica Ultima parte di Metropolis, stiamo parlando del problema della droga e dello spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone della città. Voglio andare subito dal professor Cano, il presidente dell'Agenzia per le Tossico Dipendenza del Comune di Roma, perché abbiamo una tabella adesso da analizzare che riguarda l'utilizzo delle sostanze. Vediamo la percentuale di quelle più utilizzate e poi la commentiamo insieme. Eccola qui, l'eroina viene consumata dal 36,9% degli utenti dell'Agenzia, quindi in questo momento è ancora la sostanza più utilizzata. A seguire la cocaina, 36,7%, poi tra le tossicodipendenze abbiamo anche l'uso di alcol al 9,6%, di cannabis al 7,2% e di altre sostanze dichiarate, insomma diverse sostanze magari utilizzate insieme, il 6,6% ed altro 2,7%. Allora, presidente, l'eroina ancora la più utilizzata, però in notevole calo rispetto a qualche anno fa, la cocaina invece sta salendo vertiginosamente, giusto? Assolutamente sì, abbiamo dei fruttori dei nostri servizi, appunto, cocainomani e aeronomani fondamentalmente sullo stesso piano, abbiamo però attraverso due servizi telefonici che abbiamo di informazione, consulenza, sostegno, un numero maggiore di utenti cocainomani che per l'appunto hanno più difficoltà a proporsi fisicamente presso i servizi. Se noi andassimo a osservare i dati, nell'ultimo anno, nel 2009, osserveremmo un'impennata per quanto riguarda il consumo di cocaina... Professore, un secondo soltanto, chiede al telespettatore se possiamo prendere la telefonata, se ha una pazienza di aspettare un attimo l'analisi dei dati. Prego, presidente. Ah, mi posso proseguire? Dicevo che per quanto riguarda l'utilizzo di cocaina abbiamo avuto un'impennata vertiginosa, anche naturalmente in considerazione del fatto che abbiamo messo a punto il sistema di rilevazione dei dati, e quindi valutazione dei nostri servizi, diciamo un'impennata del 30% nell'ultimo anno di consumatori di cocaina. Questo credo che sia un dato assolutamente allarmante, a fronte del quale non possiamo che mobilitarci in maniera serrata. Faccio presente che in poc'anzi, insomma, prima della pubblicità, si parlava dell'importanza della prevenzione in maniera, mi sembrava, assolutamente condivisa in studio. Lo ritengo assolutamente una cosa valida, importantissima, direi fondamentale per la nostra società, la scommessa che le istituzioni hanno, noi su questo abbiamo impegnato, e questo fa parte appunto dei progetti che saranno proposti già con l'avvio del prossimo anno scolastico, 700 mila Euro, lo dico al sesto municipio, ma in realtà questa è un'informazione che passo a qualunque presidente o vicepresidente di municipio, presso ciascuno di questi ci saranno attivati una serie di interventi presso gli istituti superiori e non solo per affrontare il problema di tossicodipendenza all'interno delle scuole. Quindi nelle scuole? Sì, a beneficio degli studenti, degli insegnanti e naturalmente anche dei genitori, perché anche a questi saranno destinati. Ed inoltre andremo in giro a parlare con i giovani al di fuori del contesto scolastico, che può essere magari un po' più vincolante, un po' più ingessante, per parlare con loro e tentare di metterci a disposizione. Bene, presidente, torno da lei tra pochissime.